Buongiorno a tutti, mi chiamo Takeshiwai, sono venuto dal Giappone, sono stato in dieci anni in Italia, sono girato dal nord e sud in Italia. Il nostro ristorante si chiama Ade Augusto, è fuori Milano, è iniziato il nostro progetto perché sono venuto e mi piace tanto qua. Abbiamo tutti orto, cassaificio e carne. Oggi presento i piatti e utilizziamo i nostri prodotti. Il primo piatto che presento è il panino. Il panino tagliamo, tostiamo oppure grilliamo e tagliamo così. Questo maionese è la marca Kyupi, questo è il più popolare in Giappone di Marco. Quando ero piccolo è sempre questo e assaggiavo. Pesto basilico, basilico, olio, pinoli e frurato. Poi pomodoro datterini, questo di nostro orto, tagliato pezzettini. Poi fagiolini, anche questo nostro orto, svolentato e tagliato pezzettini. Poi patate, anche sempre nostro, tagliato cuvettini e bollito. Anche questo sempre olio. E poi burrata, questo nostro cassaificio fatto. Poco sale e poco olio. E adesso montiamo il panino. Prima mettiamo patate, pagliolini, pomodorini. Poi mettiamo un po' di spezie e cardamomo e polvere di cardamomo tritato. Sopra burrata un po' mettiamo. Poi ancora mettiamo maionese abbondante più buono. Quindi mettiamo un po' di maionese ancora. Oggi bella colorati e come il nostro piatto è estivo. E così mi sento come la mia filosofia, questa stagionalità. Guardate. 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 Guardate.